La parrocchia ha sempre svolto un ruolo centrale nella vita di Casa Pesena, come è cambiata la città durante il suo impegno pastorale? Il cambiamento di una cultura, di una mentalità è sempre molto lento. Io sono qui da dieci anni, posso dire che sono cambiate tantissime cose. La cosa più visibile è che noi siamo qui con estrema libertà e gioia per celebrare un momento di grande festa per il nostro paese e per dare testimonianza di un senso civico, un senso di appartenenza che sta crescendo sempre di più. E quali sono le principali stanze che giungono dalla comunità religiosa? Dalla comunità religiosa il compito primario è quello di aiutare le persone a vivere la cittadinanza come una comunità coesa, unita e a seguire dei valori che non siano quelli chiusi nell'interesse privato ma in quello pubblico. Grazie a tutti!